Sono Luca Bianchi di Fabriano, sono un apicoltore, imprenditore agricolo professionale. Nel 2016 ho partecipato al progetto di sviluppo rurale, quindi ho presentato il bando, il progetto riguardante l'inizio dell'attività di apicoltura che ho desiderato e cercato di fondare e di incentrare proprio nel Fabrianese e quindi essendo radicato sul territorio dove sono nato poi ho sviluppato questa attività, questa attività che adesso nel 2021 sta dando bei risultati, belle soddisfazioni e quindi speriamo di proseguire e continuare per questa strada. Prima facevo ingegneria meccanica, studiando appunto ingegneria meccanica sono venuto a conoscenza un po' del mondo delle api, questo mondo perfetto è veramente una cosa molto affascinante, mi sono incuriosito appunto del funzionamento della vita dell'ape stessa, ho effettuato dei corsi appunto riguardante il mondo dell'apicoltura e ho deciso di investire appunto le risorse il mio tempo proprio su questo settore. I progetti futuri non si limitano solo al discorso dell'apicoltura, quindi produzione di miele, di polline e tutto quello che ruota intorno al mondo delle api ma spostarsi anche su un discorso di agricoltura andando a inserire un murino a pietra dove verranno macinati appunto questi cereali biologici che coltiviamo noi in azienda e quindi diciamo far convivere insieme agricoltura e apicoltura insieme, quindi diciamo in qualche maniera questi due mondi che apparentemente non si parlano ma invece che sono strettamente legati tra loro.